buongiorno a tutti sono la vostra vale poppins e oggi sono qua per parlarvi di sesso orale il sesso orale che non piace a nessuno ma che tutti praticano qual è la cosa che più odiate durante il sesso orale io lo so il sapore del sesso e come posso aiutarvi io a migliorarlo e a sentire qualcosa di più piacevole non c'è problema con l'oil of love di kamasutra è disponibile in quattro gusti quindi potete anche scegliere c'è fragola lampone cocco e ananas e mango quindi potrete dare al sesso e al sesso del vostro partner un gusto diverso questo olio ha un flaconcino molto piccolo sono 22 ml ovviamente è commestibile ha una consistenza un pochino più densa dell'olio classico perché ovviamente deve resistere e deve rimanere sulla parte più tempo possibile vedete come scivola lentamente ora una volta massaggiato quest'olio non solo ha un ottimo sapore ma ha anche delle sostanze stimolanti che riscaldano la parte quindi avrete un effetto stimolante e una sensazione molto molto piacevole anche in bocca quindi utilizzatene quanto ne volete dipende da quanta fame avete quello che dico sempre che dipende dall'appetito la quantità che dovrete utilizzare e se lo state cercando se ne avete bisogno trovate il link qua sotto il video e sono sempre a vostra disposizione se avete delle domande scrivetele qui sotto oppure cercatemi su instagram come reggina di merdor vale poppins o su facebook mi trovate come vale poppins onorato e nella mia pagina vale poppins la reggina di merdor si racconta quindi seguitemi iscrivetevi al mio canale youtube attivate le campanelle di avviso per quando io sarò online scrivetemi le domande su qualsiasi cosa qualsiasi prodotto qualsiasi dubbio abbiate voi riguardo alla sessualità e riguardo al mio lavoro di divulgatrice del sesso felice vi mando un bacio e vi auguro un'ottima giornata e un ottimo sesso orale